Il comparto delle vongole è in crisi e rischia la paralisi. I molluschi crescono troppo poco e sono piccoli per essere pescati e poi venduti. Una nuova sospensione nella pesca delle vongole per permettere la crescita a misura. E' quanto rischia il comparto fanese in seguito alla situazione di stallo che si registra in queste ore. Le vongole che si pescano nell'area fanese dell'Adriatico sarebbero infatti di dimensioni troppo piccole e per questo le vongolare rischiano di nuovo la paralisi. Sono piccole perché adesso a Fano non crescono. Adesso ho rinfermato altri cinque mesi, almeno come mi hanno detto degli amici miei. Già hanno fatto quasi un anno e mezzo perché qui a Fano ce ne sono molte e non crescono, rimangono piccole. E adesso negli altri posti non so, credo che se negaglino ancora le pescono. Però sono, ti faccio vedere, non è che sono grossissime il prodotto. Ed è una delle dimensioni più piccole che si può vendere? Sì, è al limite, credo. Sul limite, però si può vendere. In domenica e adesso a Fano hanno questo problema qua, del pescato, che purtroppo la crescita è minima, diciamo, non è che cosa. C'è due tipi qui, una piccolina e una un po' più media, però non vanno via, non c'è più verso che vanno via. Anche perché è cappandere. Il problema sarebbe quello della grandezza. La qualità infatti sarebbe comunque garantita, ma non essendoci le dimensioni giuste, la pesca diventa impossibile. Il tutto, ovviamente, si riversa poi anche dal lato dei venditori e dei consumatori. Se le vongole sono belle, è chiaro che si vendono bene, la gente è contenta. Basta che c'è anche il prezzo, perché se poi sono cari è difficile. Oggi è una questione anche di prezzo, la gente risparmia. Le piccoline invece sono più quelle di mercato, però la richiesta è un po' di meno. È un bel guarda, il prodotto lo guarda. La guarda la grandezza, guarda se costa un 6 euro, guarda la vongola piccola, dico, è un po' troppo come prezzo, però adesso in questo momento è così. Noi abbiamo solamente un prodotto che è il prodotto giusto di misura ed è una vongola abbastanza piccola e quindi è difficile reperire una vongola un pochino più bella, anche perché il cliente preferisce una vongola più grande che una vongola piuttosto piccola. Se qualcuno chiede risposta agli esperti del settore, altri non fanno loro questa preoccupazione, ritenendo che sia un problema che si ripropone negli anni. Che la spiega questa crescita mancata delle vongole? Diciamo un evento che ogni tanto, durante gli anni, ogni tanto, nelle varie zone diciamo che periodicamente c'è sempre questo particolare. Magari adesso qui è affano che c'è questo disagio, poi magari andremo nel comportamento di Rimini o poi invece aversa quello di sotto, lo stesso, capito? Periodicamente c'è sempre stato negli anni che abbiamo sempre lavorato. Fatto sta che il problema si ripercuote su tutto il comparto, rischiando di creare ulteriori danni ad un settore già in difficoltà.